Ciao a tutti, benvenuti, ciao a tutti, io sono Laura, io sono Andrea, e insieme siamo Tuo Fire! Oggi vi faremo vedere degli esercizi per allenare l'addome, quello che voi comunemente chiamate addominali alti, addominali medi, addominali bassi, che non esistono perché è soltanto un unico muscolo, il retto dell'addome. Esattamente, quindi oggi andremo a lavorare questo muscolo, importantissimo perché va a stabilizzare tantissimo i movimenti, iniziamo, vi facciamo vedere questi esercizi, provate a ripeterli a casa e taggateci nelle vostre prove. Grazie a tutti, benvenuti, 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 benvenuti. Here we go! Ciao! Ciao! Grazie a tutti 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 Ci vediamo Al prossimo video